Una grande fumare all'ultimo secondo, una più che meritata vittoria sul difficile campo del Giulianova. 2-2 risultato finale al termine di un derby dai due volti. Primo tempo soporifero, ripresa più che scoppiettante. Mister Pagliari sceglie gli stessi undici reduci dalla trasferta di Cosenza. Riduce ancora una volta quindi al duo d'attacco Masini in prota. Quest'ultimo grande fischiatissimo ex. Come detto poc'anzi, la prima frazione di gioco scivola via senza sussulti degni di nota. Le due squadre si studiano oltremodo. La Virtus mantiene un discreto possesso palla e Giulianova è incapace di produrre quelle accelerazioni micidiali tipiche dei ragazzi di Bitetto. Due soli lampi scuotono i primi 45 minuti di gioco. Il primo al 27esimo quando è Turchia a provare una conclusione dal limite, ma il suo tiro finisce fuori di poco. Al 39esimo Giulianova si porta inaspettatamente in vantaggio. Carbonaro lancia sul filo del fuorigioco Melchiorri che infila l'incolpe. Nella ripresa è tutta un'altra storia. Pagliari lascia negli spogliatoi uno spento in prota ed inserisce Roberto Colusti. Ma in mossa fu più azzeccata. Il suo ingresso ha dato profondità alla manovra rossonera provocando diversi fastidi alla retroguardia Giuliese. Al 47esimo minuto di gioco il direttore di gara sospende l'incontro a causa dello spegnimento di uno dei fari d'illuminazione. Dopo 7 minuti si riprende a giocare e la Virtus perviene subito al pareggio. E Colusti dalla sinistra a servire in piena area di rigore un assist d'oro per Turchi che con un preciso colpo di testa trafigge Dazi. A questo punto il lanciano prende in mano la reddita dell'incontro e si fa pericoloso in più di un'occasione. Al 21esimo infatti i rossoneri ribaltano il risultato e si portano meritatamente in vantaggio grazie a Colusti che dopo aver creato scombiglio tra i difensori giallorossi lascia partire un gran destro dal limite dell'area che sorprende l'estremo difensore Giuliese. Dopo il vantaggio la Virtus preferisce mantenere il possesso della palla ed agire di rimesta tanto che al 36esimo Colusti al termine di un'azione personale si ora è il terzo gol. Bitetto tende tutto per tutto ed inserisce prima Schneider e poi Di Matteo. Giulianova a 4 punte. Pagliari cerca di intasare la linea mediana e butta nella mischia Perfetti al posto di Masini. Nel frattempo il signor Giacomelli di Trieste assegna 7 minuti di recupero. Injury time quanto mai vibrante. Infatti al 92esimo Mammarella su calcio di punizione serve alla corrente Turchi che con un gran tiro si vorrà il parola a destra di Dazi. Due minuti di più tardi Schneider che al termine di un'azione concitata di testa impegna Chiodini. Nell'ultimo minuto di recupero quindi al 97esimo Vasto la pare con metà falgine brasiliano Schneider. L'albitro non ha due ecco di gioco. Venti le proteste dei frentai e circondano le tigare che fa andare su prova. Tutto in uso. Detto si tratta che Sacchini e Z2 finita il volo 0 anche se Pagliari non mi stagliano più che di strada la giusta.